Ma venga metti questa con me Perché? Sto facendo te o le cose? Beh si allora la metto No Salve a tutti e benvenuti su SissiTob Guarda bella Che per carnevale ci manca parecchio Mi si era spenta la videocamera La videocamera, il cellulare Quindi scusate Vabbè voi non lo sapete in realtà che si era spenta Perché sti cazzi voi vedete il video Tutto bello montato E quindi eravamo a questo Libricino Allora prima di tutto saluta Anche questo in questo caso Anche il game Anche il game Da qual è stata la tua prima Impressione su di me Che tu sappia Ho qualche birra Birra? Ah qualche bizzarra ossessione Ho qualche bizzarra ossessione? Sì fare video Settima domanda Fatti più in là No Se no non c'entro Vedi che c'è sto qua A cosa ordino da bere quando usciamo? T'è freddo Davvero fai Poi Domanda numero 16 Qual è il mio numero di scarpe? 36 Basta Vado a camminare Ma veramente però cammino Vado a camminare È nel bosco Vado a camminare Giusto perché tutte le serie Non hanno le ruote Ma ciao Odio il libro Devo prendere il libro Ottima domanda Sì brava brava Fondatore di Push Il marchio scolastico Impegnato nella ricerca Di nuove voci E nuovi autori Di nuove voci Chi fa questo? È il direttore artistico? Vengo con questo Non si spiega Buonanotte Ciao ciao Si spiega Ciao